Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, finalmente posso annunciarvi l'incontro di Trieste Vi avevo dato qualche anticipazione su Instagram Vi avevo dato qualche anticipazione, mi sa, nell'ultimo vlog, nell'ultimo mukbang E finalmente vi svelo tutto quanto Quindi ci incontreremo a Trieste il 2 marzo, che è un sabato Io so benissimo che non è centrale come posizione Trieste Perché, cioè, voglio dire, siamo tutti, insomma, dall'altra parte Però è la mia città Trieste E quando mi incontrate per la strada a Trieste Mi chiedete sempre, Nicole, quando è che organizzo un incontro dalle tue parti Qui da noi, non sempre Milano, Roma e quelle città lì Ed eccolo qua, finalmente, l'occasione per incontrarmi Ripeto, so che non è centrale come posizione geografica Trieste Ma spero che comunque anche voi del nord-est Perché spesso mi chiedete quando è che viene Venezia, quando è che viene Padova Ragazze e ragazzi del nord-est Ora sto organizzando Trieste Che per voi sarà veramente la tappa più vicina Quindi se siete del Veneto, del Trentino Alto Adige O se mi seguite, perché so che mi seguite in tanti Della Slovenia, della Croazia Questa è sicuramente la tappa per voi Perché poi altre tappe in queste zone non ne farò Almeno per un po', quindi Trieste, sabato 2 marzo Adesso vi do tutte le informazioni perché ci vedremo in via Roma 9 Da Goran Viller, il salone di parrucchiere Goran Viller che è il mio salone di parrucchiere Come sapete di fiducia è Goran, è il mio parrucchiere di fiducia ormai da diversi anni E quindi ci danno l'occasione per incontrarci lì E appunto in via Roma 9 Vedrete c'è un portone, sarà comunque segnalato Perché bisogna andare al secondo piano E lì c'è questo salone gigantesco E ci sarò io ad aspettarvi Appunto c'è scritto sul campanello Lo vedrete Comunque ci saranno dei segnali fuori Quindi se andate in via Roma 9 a Trieste Sabato 2 marzo non potete perdervelo Comunque ci saranno i segnali C'è il campanello, c'è scritto Goran Viller Premete il campanello E poi due piani su e appunto nel salone gigantesco Io sarò lì ad aspettarvi Vi aspetto dalle 18.30 alle 20.30 E oltre ad esserci io ovviamente ad aspettarvi Ci sarà anche un aperitivo speciale con il finger food per voi Insomma hanno organizzato quelli di Goran Viller Veramente veramente tutto alla grande come fanno di solito E tra l'altro ci sarà una goodie bag Una borsetta piena di sorpresine per ognuno Quindi 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 sarà anche una bellissima occasione Per provare alcuni prodottini interessanti Oltre a questo c'è anche il 15% di sconto Su tutta la linea firmata Goran Viller Solo per voi, solo per quel giorno Perché questi prodotti non sono mai scontati Ok? Mai E sono appunto ok Questi sono solo alcuni della linea Premier Repair Comunque saranno tutti scontati al 15% Solo per voi, solo per quella giornata E sono i prodotti che io amo Che uso sempre la maschera Lo shampoo, la spuma Insomma lo spray Premier Repair Quindi avrete occasione di testarli E di comprarli ad un prezzo scontato Che ripeto non succede mai Quindi io vi ripeto tutto quanto Ci vediamo sabato 2 marzo a Trieste In via Roma 9 Nel salone di parrucchiere Goran Viller Che sarà appunto in un portone poi su Al secondo piano ma non fatevi intimidire Perché appunto quando arrivate su C'è un salone di parrucchiere gigantesco Io vi aspetterò lì Dalle 18.30 alle 20.30 Quindi ripeto potete venire alle 18.30 Potete venire alle 19 Potete venire alle 20.15 Ok? Io sarò lì fino alle 20.30 Che vi aspetto Altra cosa importantissima Ci sarà appunto un aperitivo speciale Per voi una goodie bag per tutti Con delle sorpresine Voglio anche dire che se siete miei follower Io voglio assolutamente incontrarvi Indipendentemente dall'età Perché molto spesso mi viene detto Nicole io sono piccola Oppure Nicole io sono grande Mi vergogno ragazzi Non vi vergognate perché io voglio conoscervi Cioè venite 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 Perché io voglio conoscervi Voglio vedervi Voglio abbracciarvi Voglio ringraziarvi per guardare i miei video Perché se siete miei follower Siete assolutamente i benvenuti E poi potete venire anche solo per dirmi ciao O per farvi una foto con me O per che ne so Farvi un selfie O per avere la mia dedica Qualsiasi cosa vogliate Anche solo per chiedermi qualche consiglio Insomma io sarò lì per voi Per incontrarvi tutti L'entrata naturalmente Io cioè Devo specificarlo perché mi viene chiesto Anche se vorrei fosse ovvio Ma l'entrata è gratis Cioè non bisogna pagare niente Non bisogna importare niente Potete venire lì e chiacchierare con me E vedermi dal vivo Insomma anche se siete solo curiosi Di vedermi dal vivo Potete farlo Avete l'occasione adesso E io sono emozionatissima Proprio perché appunto Io lo ripeto In tutti i video In cui vi annuncio un incontro Ma per me Che sono sempre da sola Perché il lavoro Ok di youtuber E almeno per quanto mi riguarda È molto solitario a volte Perché tu Filmi da sola in camera Monti video da sola in camera Cioè mangi davanti al computer Perché sei lì Che monti video Rispondi alle email Prepari fatture Cioè è tutto un lavoro Molto solitario Quindi quando io ho l'opportunità E voglio ringraziare tantissimo Goran Che mi dà l'opportunità Di incontrarvi poi qui Nella mia città Quando ho questa opportunità Per me è davvero Tanto tanto importante Potervi vedere Potervi conoscere Potervi abbracciare E ringraziarvi Face to face Cioè non tramite un computer Ma vedervi E dirvi grazie E dal profondo del mio cuore Perché se Quello che faccio Cioè se ho trasformato Una passione In un lavoro È assolutamente Grazie a voi Quindi se appunto Siete miei follower O guardate i miei video O volete anche solo Vedermi per curiosità O volete provare I prodotti Premier repair Volete vedere Com'è il salone di Goran Perché mi sentite parlare sempre Dei loro prodotti Eccetera eccetera Potete assolutamente venire Io vi aspetto Non vedo l'ora Vi aspetto sabato 2 marzo E scrivetemi Se venite Scrivetemi Su Instagram Qui su Youtube Insomma Ovviamente lo dirò anche su Instagram Per chi Non ha Per chi non vede Youtube Ma mi segue solo su Instagram Quindi Non vedo l'ora di incontrarvi Mando le ciance Questo troppo Altrimenti mi dilungo Troppo 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 Nei video E In chiacchiere E basta Io vi aspetto Ci vediamo a Trieste Prestissimo Sono troppo contenta Un bacio grande Ciao 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 Grazie a tutti.